Ben trovati su Guardavalle Online, ciao a tutti. Sono qui solo per ricordarvi che l'ultimo weekend di marzo, ovvero nella settimana santa, ritornano i bonsai per la lotta al vice. Questa è la ventunesima edizione nazionale e siamo in 3000 piazze. Bene, di queste 3000 piazze c'è anche Guardavalle Marina, c'è Chiaravalle e Soverato. Quindi noi con i nostri banchetti saremo presenti a Guardavalle Marina il 30 e il 31 marzo, ovvero sabato santo e pasqua. A Guardavalle Marina nel piazzale delle ferrovie dello Stato dalle 8 di mattina fino alle 20. Poi saremo all'ospedale di Soverato, tutte e tre giorni dedicati a questa edizione, appunto la ventunesima edizione di bonsai e la lights e siamo nell'ingresso principale, anzi quattro giorni, il 28, il 29, il 30 e il 31. E a Chiaravalle invece saremo sempre all'ospedale, presso l'ospedale San Biagio, sempre nell'ingresso principale saremo il 28 e il 29. Bene, niente, il bonsai perché il bonsai? Perché il bonsai ha bisogno di cure giornaliere come l'ammalato che ha lights. Quindi ormai è diventato il simbolo di questa associazione nazionale per la lotta all'AIDS e proponiamo, ecco, per il ventunesimo anno di nuovo questi bellissimi bonsai. Con un contributo di 15 euro c'è il bonsai piccolo, il medio, poi ci sono quelli da 30, da 60, ebbene, vi invito solo a venire a vederli perché sono molto belli e sappiate che questi soldi vanno a finanziare la ricerca per la lotta all'AIDS, quindi per aiutare questi pazienti che hanno l'AIDS e per dire no appunto all'AIDS. Grazie, purtroppo ancora non è una malattia che è stata sconfitta definitivamente, ma la ricerca ha fatto veramente passi da gigante e siamo al traguardo. Quindi vi invito a venire, vi aspetto lì al banchetto e grazie ancora di nuovo a tutti quanti. Grazie e arrivederci.